Un importante capo talebano, Mullah Firaz Jihadi, è stato ucciso durante un blitz delle forze di sicurezza afghane nella provincia di Ghazni. A dare la notizia è stato il ministro dell'interno di Kabul, insieme a lui e a Ghazni sono stati uccisi altri cinque capi talebani, nove sono rimasti feriti e alcuni dei loro mezzi di combattimento sono stati sequestrati, tra questi due lanciarazzi. Jihadi, un capo talebano molto noto in Afghanistan, era stato uno dei leader dell'offensiva di Kunduz, sferrata quest'ottobre. L'offensiva è stata lanciata per celebrare, un anno dopo, la conquista talebana di Kunduz, città poi ritornata sotto legge da delle forze governative. I talebani non sono riusciti a riprendere la città, una di quelle in cui il controllo governativo è più volatile, ma hanno assediato la popolazione e usato civili come scudi umani.